Nel maggio del 2019 lei si candida al sindaco di Misano Adriatico con la lista civica viva Misano viva. Lista civica vera o come tutti? No, 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 se avessi fatto così probabilmente avrei vinto. Ecco, perché sono arrivato col 33% e devo dire che è stata un'avventura straordinaria. Mi sono sentito un piccolo Berlusconi. Senta, lei durante la campagna elettorale ha preso delle posizioni coraggiose, anche controcorrente. Per esempio contro le multe ai clienti delle prostitute. Cosa ne pensa la prostituzione libera? No, no, io non ho. Quello è Cruciani. Quello è Cruciani. È Cruciani che mi ha fatto un'intervista, l'ha montata alla sua maniera ed è venuto fuori quello. Cioè, Giuseppe Cruciani ha falsificato il suo pensiero. No, non falsificato, però mi ha fatto un'intervista brillante e montata in una certa maniera e sembrava un'intervista seria, capito? Ho capito. No, no, ma io l'ho pagata quell'intervista. Perché l'ha pagata? L'ho pagata perché chiaramente l'opposizione nel territorio ha usato quell'intervista contro di me. Adesso io mi guardo bene. Al telefono c'è Cruciani, io non rispondo. Grazie bille. Grazie. Grazie per la visione!